Tu lo farei così Sono contenta che ho la cena stasera Per sapere In realtà non ti si vede il viso, ti si vede la mano La mano va bene, ma faccio così? No perché non l'hai fatto nel totale No, però stiamo spolverando Ma non riusciamo a fare un accordo Tu spolveri così Tu sai cosa hai fatto? Hai fatto un saltino E hai spolverato Quindi tu metti il saltino e spolveri E poi Mi esci di qua vicino alla camera Perfetto Mi metti la mano qua che vediamo il Il faccio? Sì che vediamo il fuoco sulla mano anche Qua perfetto Ah sì anche Tanto si vedrà il movimento su Ok io la rottego più stretta Sì in modo che tanto si vede il suo movimento Sai cosa? Tu spolverai un po' qua? Ti faccio fare Dove? Guarda Ecco Facciamo Passiamo Bariamo un po' Perfetto Ecco Qua questa zona qua Benissimo